non si sente niente non si sente niente non si sente niente non si sente niente i miei amici già lo sanno alcuni non lo sanno lo ripeto stiamo lavorando noi con il comitato da vedo dei testetti per assicurare l'inserimento della candidatura UNESCO e cos'è la candidatura UNESCO è qualcosa che somiglia un premio Nobel non è una sciocchezza la differenza è che un premio Nobel sono più di un'idea che vanno a questo il premio al premio che non si diamo riguardo alla comunità voi perché Lucele è la comunità e una delle clause e le trinente dell'UNESCO pretendo questo che Lucele sia la famiglia di rappresentativa della comunità e che tutti i crei e tutti i nostri che legiscono questa cosa io non vi voglio aiutare e sarei doppiamente un po' di tono perché voglio direttirmi col cuore e quindi parliamo di tutti i nostri personali e ciò direttiamoci con il PC grazie